La variazione di bilancio da 15.000 euro ha ottenuto il via libera del Consiglio Comunale. Il diveto risosta resta in vigore ormai da metà agosto, ma dello studio di vulnerabilità strutturale per il ponte Capograssi di Sulmona, ideato dallo stesso ingegnere che realizzò il ponte crollato a Genova, ancora nessuna traccia. Meglio tardi che mai, direbbe qualcuno. Sì, perché qualcosa si sta muovendo a Palazzo San Francesco. L'incarico infatti potrebbe arrivare a stretto giro e questione di giorni, rassicura il Vice Sindaco e Assessore Comunale e Lavori Pubblici, Nicola Angelucci. Stiamo verificando se assegnarlo all'università, come avevamo intenzione di fare, oppure a un tecnico. Il tanto atteso studio da molti sollecitato dopo la tragedia di Genova sta per arrivare. Per lo studio di vulnerabilità strutturale sul ponte Capograssi è stata chiesta una somma di 888.000 euro al ministero, dopo la circolare recepita da tutti i comuni, ma il governo non ha risposto e il comune ha tirato fuori di tasca propria circa 15.000 euro, come da variazione in bilancio. Per l'altro ponte di Morandi si vogliono quindi accertare le condizioni attuali dell'opera attraverso una serie di verifiche di vulnerabilità strutturale, perché si sa che prevenire è meglio che curare. Uno studio di vulnerabilità sismica fu effettuato nell'ottobre 2016, quando il ponte venne chiuso al traffico veicolare a seguito del terremoto di Norcia. Ora si attende l'incarico annunciato per fine agosto.